Mezz'ora al telefono, niente da fare. Il sito non toglierà la foto. Credevo che le foto di nudo fossero proibite dal regolamento. Ora abbattile piano sul tavolo per risospendere le cellule. Infatti, tecnicamente adesso non sono più nudo. Forse dovresti chiudere il tuo account. Chi l'ha fatto ha cambiato la mia password e non posso provare che sia la mia pagina. È un indizio, è esperta in tecnologia. La mia password era password. Prostituto e scemo. Una delle tre si comportava in modo sospetto, magari ti stava più addosso. Non ricordo neanche i loro nomi. Senti, è un periodo duro per me. La separazione da Rachel, andare in albergo. Devi credermi, la tua umiliazione mi ha consolato tanto. Grazie. 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 Grazie.